Mi raccomando, dico trattino apposivo nello shop se volete supportarmi E se volete migliorare il vostro ping, c'è questa app miracolosa in descrizione Provatela gratis i primi giorni, raga, migliore 4G mio, quindi pensate alle connessioni buone Modalità spettatore! Allora, Armin, che rank sei? Sono a Real A Real, ok, quello che volevo sentire, ascolta, una sfida per te, accettiti solo, accettisi o no? Ti accetto, dai Accetti, mi devi dare 1000€ se muori Come? Eh, no, sto scherzando, la sfida è al contrario Allora, un tentativo solo, questa partita fra vittoria reale ad a Real Com'è? Com'è questa season? È difficile? È tosto? Oh, così così, diciamo Cioè, ma è stato facile ad arrivarci o no? Dimmi un attimo, devo ragionarci No, per niente Per niente, le lobby sono difficili? Eh, tantissimo Ok, perfetto, allora ti do 1000€ se riesci a far vittoria reale con questo tentativo Non sto scherzando, raga, ho PayPal qua Io ve lo apro, ve lo apro Sono serio, sì, fra? Ok Raga, 1000€ per palle Tanto non ce la fai, fra, non ce la fai, è impossibile Sono pazzo, sono pazzo, mi voglio sbilanciare Sono pazzo, tanto non ci riesci, fra, un tentativo solo, hai Sei caldo? Sono caldissimo Ma come sei caldissimo? Devo chiederlo prima, maledetto me Maledetto me Comunque, cosa ne pensi di questa season della morte di Fortnite che sta morendo, signori? Sta morendo Ha il record negativo di persone La season è bruttina, le armi non piacciono No, ma era iniziata pure figa Poi hanno messo queste cose di Avatar Cioè, cambiano in continuo, c'è un po' Però non vale camperato, naturalmente, cerca di, capito, cerca di Ovvio, ovvio Ok, ovvio, ovvio Let's go C'è qualcuno? Allora, se sono bot è impossibile, fra Dai, a Rina non ci sono bot, no? Cioè, confermi Ok, non è un bot Raga, io spero che muoia Cioè, no, aspetta Fammi arrivare prima a otto minuti, poi muori Vai, vai Ogni fight sarà tosto, vedi? Cioè, ogni fight sarà incredibile Fatemi sapere nei commenti che rank siete, eh Ma siete quello che push, oh? Oh, ricordami l'euro, fra Quindi gioca con le unghie e con i denti Fino in game E poi muori Ma pure splashe, bro Tu non c'hai niente, fra In realtà C'è uno scudone che Io non vedo la vita, che è buggata, eh Quanto hai di vita? Non mi hitta 190 190 Stai arrivando anche a safe C'è la banana La banana, sì, sì, c'è la banana Ok, 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 ok Raga, dentro di una box fight Raga, se tutti i fight sono così Ci metto la firma, eh Cioè, raga, ci metto la firma Io non vedo la vita, quindi non posso dirti niente Non posso darti una mano, fra Cioè, devi vederla da solo Ok, questo quante splash c'ha, scusami Eh, tanto, Rans Fra, se è primo fight muori così Però lo scelpo un po' troppo più forte, fra Sì Sì Ok, non dovevi morire adesso Non dovevi morire adesso Non dovevi morire, fra Era importante non mu... Eh, guardate che ha trovato Ma questo che ha trovato? Bell'ut aveva Ah, ok, ok Fra, per me va bene Cioè, finché arriviamo a otto minuti E faccio il video divertente Ok, però non vince, capito? Non devi vincere, fra No, no, non vinco, non vinco Non vinci? Su di mille euro mi dai 500, va bene No, aspetta No, 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 no Aspetta No, no, aspetta Non ho capito Cioè, quindi prendi 500 a prescindere No, no, non va bene No, 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 no Corcavolo, corcavolo Tu te la giochi Cerchi di vincere Poi, almeno c'è la possibilità Ok, sfida abusiva, Corbot Come mai questa scelta del medaglione? Come mai? Lo vuoi? Stai perdendo molta vita in safe? Se conviene, frari Parti dalla safe, eh Come ci provi? Allora, cioè, ragà Questo c'è un paio mille euro E se la gioca così Rischiando il tutto Ma non Dite me se non è pazzo E non potete dire che non è uno pazzo Adesso è uno pazzo Uno pazzissimo Il più concreto del team, tra l'altro Cioè, però, in realtà C'è le cure, c'è tutto Quanto è lontana la safe? Fra, perché non vedo Cioè, non posso aprire la mappa C'è un po', un po' Ce la fai? Serio? Secondo te ce la fai? Quante possibilità Percentuale? Quante percentuale hai Di farcela? 40% Quanto? 40% Ah, il 40% di farcela? Non so se hai capito Non so se hai capito Che non ti do 500 euro Se muori, eh Cioè, non so se hai capito sta cosa L'hai capita? Sì Sei pure un bugiardo Che è 40% C'è tutto là Il lago C'è tutta l'acqua C'è tutto il fiumiciatolo Se trovi l'avatar dell'aria È fatta, sì Massimi di panico Attimo incredibili Vedi che si blocca il personale Io godo, eh Mi va bene Ma perché si ha provociato La mappa si blocca il personaggio Cioè, non ha senso sta cosa Ma va bene, signori Beh, ma ci sei arrivato nel chill Sei un bugiardo Era 200% Altro che 40% Maledetto Armin Maledetto Qua ci voleva gala comunque Ci voleva gala o rosé Per rendere tutto più dinamico E più divertente Perché poi andavamo a finire A parlare del pisello de rosé Della mamma de gala De queste cose qua Ci sta, raga Perché a gala piace il pisello de rosé E a rosé piace la mamma de gala E a gala piace la sorella de rosé Quindi è tutto, capito Un impiccio Il fatto, sai qual è? Che la sfida con te È tosta Cioè, ho sbagliato persona Perché te non sbagli quasi mai, regà Cioè, è più concreto del team Fa sempre la mostra giusta Le giocate giuste Sono scemo Cioè, normalmente taglierei Ok, le parti che lui ci mette Un secondo a rispondermi Taglierei Ma stavolta Non taglio Perché poi diventa noioso il gameplay Ci ho messo l'animazione apposta Ok, secondo fight Ok, si boxa Non sono così Però picca Si boxa Ma picca il bro Non c'è un altro, mi sa No, no, fra È impossibile che è un altro Scusami Che sta a tiro al box su E non è sparato Invece che sparare a lui No, non era un altro Ok Qua c'è il bro Ma, perché? Il bro che mi grippa Il bot che grippa Ok Si è dato tutto Ora sei full, fra di vita Aggiornami perché Non vedo Ok, full 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 Siete in 16 15 persone è fattibile Però una Allora, fra Almeno devi fare 3 kill Cioè, sono poche Ma in realtà, raga Ho sbagliato completamente persona Cioè, ma sono stupido 1000 euro parti di così Oh Qualcuno con le shock? Non viene verso di te C'è il medaglione Vedi un po' Ok Tu sei messo proprio bene anche a cure Hai solo due armi? Eh, sì Sto spawnando l'isola Ok, stanno a fai-da Stanno fai-dando la tua occasione Vedi te, vedi te Usa anche qualche termine scientifico Incredibile No, c'è il bot Sta segnalato, fra Nesta un'altra a sinistra Questo se ne va Ok, è riuscito a scappare C'è un altro, fra Sta in mezzo a un bot di roba Io ho detto vittoria reale Però almeno 3 kill Sta lontano Ok Signori Mi raccomando Fatemi sapere nei commenti Che rank siete Allora, dimmi una cosa Sì, onesto, ora Fermati Concentrati Qual è la season Che ti ha dato più problemi Ad arrivare ad Unreal E appa questa Questa? Sì Ma come mai? Ti è rimasta solo gente dry harder Giocano in pochi Eh, fra Ma questo c'è il bot che te C'è il web incredibile Non è neanche tanti mazzi Mi sono reso conto ora Ecco Quello di prima che ho laserato Aveva il medaglione Devo killarlo Che medaglione aveva secondo te? Non lo sai Quello del moving Ok Questa qua sopra Fermo Sceso C'è il siphon, no? Sta scendendo Sì, sì Trenta Peccato Fammi boxo Perché ogni volta Cercano di checkinare Sì, ma perché è apertissimo Fra dall'altra parte Proprio sei aperto In mezzo alle campagne Sono in open In mezzo a qualche altra persona Sì, sì, sì Sì, assolutamente Poi c'è magari quello Io non so come giocano ad Unreal Raga È solo nella stagione oggi Che sono arrivato Perché non ci gioco Non sincero Bello Non sincero raga Non ci gioco Mi piace fare content Ma non mi piace giocarci Guarda Guarda che è arrivato È arrivato l'avatar Ma è il medaglione fra Tu non è mazzo Sì, sei medagliato Tu non è mazzo Non è Cazzo Sei morto Il libro non ti lascerà mai Lo sai Sei morto fra Non ti lascia Quanta vi dai fra Non lo so Sì 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 Infatti Non avevo matto In questa stazione Allora Tu sei morto per Perché è pure morto È pure morto questo Era quello del cancello Eh fra Eh Purtroppo le partite Arrivano così Raga Se raggiungiamo 200 like Lo rifacciamo Ok Sempre con te fra Se raggiungiamo 200 like Lo rifacciamo Ok È un tentativo È difficile raga Un tentativo così Manco lo sapeva Capito Cioè L'ha saputo durante il game Quindi forse non sarà preparato psicologicamente abbastanza È troppo sicuro di sé Vabbè ci sta Oh raga Mi raccomando 200 like Armin Mi dispiace Io te l'ho data la possibilità È mille euro Mi rimango Mi dispiace Ma un botto fra Tu non puoi capire Che faccia della disperazione Che c'ho Tu non hai proprio che capito Guarda Guarda Sto piangendo Mi dispiace Pauro Armin Sì sì certo certo No no sicuro fra No 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 Grazie a tutti.